Tre ragazzi ammoniti dalla questura di Pescara per cyberbullismo. Tutto è partito dalla segnalazione della madre di una ragazza che sarebbe stato oggetto di offese denigratorie da parte di alcuni coetanei tra i 15 e 16 anni di età. I cosiddetti cyberbulli avrebbero realizzato degli sticker, immagini online ottenute dalle foto sui profili social della ragazza e da altre foto scattate di nascosto. Così poi avrebbero preso in giro la vittima in alcune chat. Da qui l'intervento della polizia la quale, visto la giovanità dei soggetti, ha deciso di percorrere la via amministrativa ammonendo i tre ragazzi. È un provvedimento sempre che a natura, come dicevo prima, preventiva e serve appunto ad evitare che determinati comportamenti abbiano conseguenze ulteriori sia per la vittima ma anche per l'autore perché lo preserva da un eventuale processo penale perché, come dicevo prima, sono comportamenti che possono avere una valenza anche sul piano penale. Il provvedimento, i cui effetti scadranno al compimento della maggior età, è amministrativo per cui non occorrono prove di rilevanza penale ma solo la sussistenza di indizi. Questa è la prima volta nella storia di Pescara che la questura emette un ammonimento per cyberbullismo. Questi sono i primi ammonimenti che facciamo, quindi sicuramente questi episodi, questi episodi è venuto fuori però è l'unico che noi di cui abbiamo avuto contezza. Serve, ripeto, proprio ad assolvere una funzione monitoria e quindi poi educativa. Grazie. Grazie.